Zambardi ha l'ultimo sospiro quando sembrava ancora un altro pomeriggio storto? Stiamo attraversando un periodo un po' particolare, al di là dei risultati che non sono venuti, ma il periodo è abbastanza tormentato. Credo che sia meritata, meritata per quello che i ragazzi hanno fatto vedere in campo, per la voglia, per la cattiveria espressa. Chiaramente ne risente un po' di più il gioco, perché quando sei costretto a fare punti per vincere, lasci da parte il fioretto e metti la spada. L'esultanza contenuta di Giuseppe Lenocino, hai notato anche tu? Giuseppe è un ragazzo fantastico, le esultanze possono avere molteplici interpretazioni, ma è la stessa esultanza che ha avuto a Rimini sul gol. Ha abbracciato tutti i ragazzi, è esultato dentro lo spogliatoio, quindi non vedo nessuna esultanza normale. Vivarini che ti ha detto? Vivarini non l'ho sentito ancora. Non l'ho sentito ancora. Grazie. Grazie. Grazie.